Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo episodio di Adolfish Allora, siamo qui sempre sul nostro carissimo amico Adolfish Dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo fare un nuovo livello ragazzi, esatto Un nuovo livello molto emozionante che dovrebbe essere pure l'ultimo Quindi per questo il video verrà magari breve Allora, ho da controllare tra le altre aggiornamenti di questo gioco Perché potrebbero, non so, avere messo una demo con più livelli E io sicuramente se l'hanno messa la giocherò Questo però, se non l'hanno messa, se non l'hanno messo niente Possiamo dire che è l'ultimo video Dato che appunto, come vedete, c'è solo questo primo mondo disponibile Purtroppo, comunque io continuo a sostenervi ragazzi Mi raccomando, continuate a fare questo bellissimo gioco Che può diventare davvero una cosa interessante Comunque il link per il download ovviamente lo trovate in descrizione La pagina, trovate la pagina, il sito appunto di Lazy Cat Software di Adolfish appunto E vi linko anche il loro canale dove potete appunto stare aggiornati su tutte le novità Che fanno appunto, che sviluppano gli sviluppatori Scusate il gioco di parole Perfetto, allora cominciamo subito Il primo livello tra l'altro è circa due mesi che non ci gioco Io ragazzi farò pure un vlog per questo Sono stato un pochino indaffarato questi ultimi tempi Quindi non ho messo praticamente video Per molto tempo, diciamo in tutto l'anno Per ora, in questi tre mesi Ecco, tanto che siamo a marzo Avrò messo sul serio nemmeno una decena di video Per cui diciamo che farò un vlog Però relativo a questo è un altro argomento Ok, allora vediamo un pochino di cosa si tratta questo nuovo livello Perché penso proprio che dovrebbe essere abbastanza difficile Allora, come vediamo qui ci sono dei Dei cosi che modificano la gravità Non so bene se si possono chiamare cosi Comunque io le chiamo cosi Ok, non sembra difficile Porca troia, no, allora è difficile Come appunto ricordiamo Ecco, vedete, siamo già morti Come ricordiamo se Se noi ci spostiamo troppo a destra in questo caso Moriamo Però dobbiamo spostarci a destra Qui sotto, qui sopra E qui così Accidenti ragazzi, è davvero difficile È davvero difficile perché serve proprio trovare quella strategia Quella strategia molto molto importante Per esempio ecco, qui come cazzo si può fare Forse mi rallento Vediamo un po', forse ho capito come si fa Spero che non sia un livello troppo lungo Troppo difficile soprattutto Ok, tipo così Ecco, vedete, mi sono rallentato Bam Mamma Non ci posso credere ragazzi L'ho L'ho già finito Allora Una cosa sensazionale Cioè Eh Posso permettere di dire Di dire Che era fin troppo facile Quest'ultimo livello Pensavo che fosse La difficoltà più assoluta Dato che già questo di ghiaccio Mi ci sono volute le bestemmie per farlo Questo non me lo ricordo bene Questo era abbastanza facile È vero Questo anche, madonna Le bestemmie mi ci sono volute per farlo Questo qui era una cazzata enorme Oddio mio Da una parte sono sollevato Almeno non ho dovuto sclerare più di tanto Però Sul serio Un bel livello Un bel livello Soprattutto questo con i portali Cioè mi carbava davvero molto Sì Quindi allora Non vedo l'ora di vedere La versione di Adolfish completa Se l'avessi saputo Che questo livello era così corto Lo inserivo nel primo video ragazzi Purtroppo Purtroppo devo fermarmi qui Questo sarà il video più corto del canale Molto probabilmente E io davvero Vi chiedo ragazzi Tutti voi Tutti i miei iscritti Tutte le persone che mi stanno guardando In questo momento Vi chiedo di supportare Questo gruppo Che ha creato Adolfish I programmatori di questo gioco Ragazzi che sono italiani Sono italiani Quindi ragazzi Dobbiamo avere un minimo Di orgoglio Di 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 Anche La nostra partecipazione Appunto A farli A cercare di farli Diventare famosi Quindi mi raccomando ragazzi Non dico che non siano già famosi Perché comunque questo è un gioco Penso che lo conoscano A parecchie persone Ormai Non lo so Penso che avrà fatto Abbastanza successo Ragazzi Ce la metto tutta Ce la metterò anche tutta In futuro Per appunto pubblicizzare Strapubblicitaria Questo gioco Non lo faccio Per sogno Ovviamente lo faccio Perché i programmatori Sono italiani Sono italiani Quindi Una volta tanto Che creano un gioco Bello Gli italiani Tipo in verbi Svirtus Anche i programmatori Sono italiani Anche quello Un bellissimo gioco Un altro È appunto Adolfish Cerchiamo di Appunto Appoggiare Questi sviluppatori E Io ragazzi Vi auguro Davvero Un grandissimo Successo Valangate di soldi Incredibile Perfetto ragazzi Allora io vi saluto Purtroppo questo video È stato davvero breve Se vi è piaciuto Comunque scrivetevi Commentate Mettete un bellissimo like E continuate a seguirmi Perché in futuro Appunto Usciranno altri 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 Video Di altre serie Nuove serie Comunque vi spiegherò Tutto in un vlog Che appunto farò A breve Davvero a brevissimo Noi ci vediamo ragazzi Ciao a tutti